Bene coach, Andrea Loi, dopo questa partita qui di Albese, un commento, perdere al tie-break e dopo aver fatto una gran bella partita, c'è amarezza sicuramente, credo. C'è amarezza perché anche domenica scorsa... Eh, avete perso anche domenica al tie-break, è vero, bravo. E poi siamo caduti nel quinto, questa volta lo stesso, sopra due a uno, calo proprio di tensione, calo proprio di testa e non riusciamo a tenere la nostra intensità, perdiamo alcuni riferimenti appena diamo un pochino giù e quindi bisogna... dobbiamo sicuramente lavorare su questo aspetto qui, perché tutto parte anche dall'allenamento, ovviamente. Quindi l'amarezza è legato proprio a quello, perché poi una volta che c'è la consapevolezza che se giochiamo... Comunque, poi c'è una squadra comunque davvero molto bella, perché alla fine... È vero che poi c'è stato il calo finale, ma avete tenuto testa veramente per... Sì, sì, sì. Sì, lo so, è una consapevolezza... Certo, quello assolutamente, quello lo sapevamo, la squadra non è per niente male, la squadra ha delle caratteristiche abbastanza forti in break point, ha determinate caratteristiche forti in battuta, quindi dobbiamo anche un pochino capitalizzare alla fine, non è che ogni volta che andiamo giù buttiamo al vento la partita. Poi, ovviamente, bravo l'Odi domenica scorsa, perché risalire dallo 0 a 2 ovviamente non è facile, bravo al Bese oggi, assolutamente, perché lo stesso sotto 2 a 1, poi stavamo sotto al quarto, quindi ovviamente è molto bravo e loro sono riusciti a risolversi molto molto bene. Allora, rimane come hai detto giustamente questa amarezza, però anche la consapevolezza che Cagliari può dire la sua in questo campionato. Assolutamente, questo è sicuro. Allora, complimenti ancora, grazie della tua cortesia. Prego. Grazie al coach di Cagliari, grazie.